Al fin dei bigattoni un trazo mare Il festival è molto bello, come se ne fanno pochi al sud, penso che sia il festival più importante che si fa oggi. Per l'estero abbiamo sempre un rapporto abbastanza fecondo, soprattutto con artisti che operano, nascono fuori dall'Italia, tipo Massive Attack, Adrian Sherwood, Bill Azuel e ultimamente stiamo collaborando pure con Neil Perch di Kizai on Train, stiamo facendo delle date con lui, insomma lui viene quando può, stasera non poteva. I nostri progetti sono soprattutto un nuovo disco che si chiamerà Dubfellas Volume 2, per noi quel progetto lì significa fare dei dischi più sperimentali, in cui c'è molto dub, dischi sostanzialmente strumentali con pochi pezzi cantati. Buongiorno! Buongiorno! ! Grazie a tutti.